Grazie a tutti. Non avevo mai visto questo meraviglioso palazzo che ha una storia da raccontare e te la racconta in silenzio. Io penso di aver portato più televisioni qui in Puglia che chiunque altro. Lo dico perché imponevo a loro quando mi chiedevano servizi, però in Puglia, però in Puglia. E venivano dalla Germania, Svizzera, Russia, Corea. E venivano dalla televisione in Puglia.